la parasha di tazria affronta in maniera tipicamente ebraica arcaicamente ebraica l'idea e il mistero della nascita noi dobbiamo fare grandi viaggi per scoprire e vedere il più grande miracolo della dell'esistenza umana anche in un'epoca come la nostra dove si trapiantano organi dove la scienza la biologia dove siamo sempre di fronte a progetti a problemi di nuova etica e di bioetica eppure voglio dire in tutto questo rimaniamo sempre stupiti meravigliati sbalorditi commossi di fronte al miracolo della nascita di fronte al fatto che da in un percorso estremamente come dire naturale ma pure così misterioso che va dal seme alla nascita c'è racchiuso a tutta la nostra esistenza eppure questo mistero di fondo che circonda la nascita viene invece affrontato nella parasha di tazria in maniera molto tecnica in maniera molto reale mani senza miti senza cicogne senza nascite primordiali lo stesso verbo con il quale si indica la sessualità che troviamo in genesi al capitolo 4 1 e adamo con obbe eva sua moglie che rimase incinta il verbo conoscere il verbo la dati da conosce personalmente intimamente è bellissimo notare come in un'epoca dove tutto è palese chiaro spudorato venduto come astrutamente scoperto e rivelato la sessualità per la torà rimane un elemento di conoscenza un elemento di intima conoscenza anche lì dove tutto ci sembra già svelato noi dobbiamo davvero conoscere la sessualità resta un atto di intima conoscenza al di là dell'apparente finta come dire estrema esposizione di tutto quello che in realtà sembriamo conoscere ma non lo conosciamo semplicemente lo vediamo pubblico ma non lo percepiamo nella sua reale intimità shabbat shalom